Buongiorno e benvenuti a una nuova edizione del Fatto del Giorno. Il generale Roberto Vannacci è stato sospeso dal suo incarico di capo di Stato Maggiore delle Forze Terrestri per 11 mesi e il suo stipendio verrà dimezzato. La decisione è arrivata dal Ministero della Difesa dopo l'esito del procedimento disciplinare avviato lo scorso 30 ottobre a seguito della pubblicazione del libro Il mondo al contrario e le accuse di stigazione razziale. Il provvedimento è stato preso per aver leso il principio di terzietà e neutralità delle forze armate e per aver compromesso il prestigio della difesa ma il legale di Vannacci ha annunciato il ricorso al Tar. Sul generale pesano già cinque inchieste della procura tra cui quella che riguarda spese e rimborsi durante il suo incarico a Mosca tra il 2021 e il 2022. Inoltre una nuova inchiesta per motivi di discriminazione razziale. A questa si aggiunge il fascicolo aperto a seguito della querela della pallavolista Paola Egonu. Dure le parole anche del Premier della Lega Matteo Salvini che dice viva la libertà di pensiero e di parola in un tweet di X e commenta così quindi la sospensione disciplinare del generale. Tuttavia non nega una possibilità di candidare all'Europei 2024 lo stesso generale Vannacci. Con questo è tutto, noi vi diamo appuntamento alla prossima edizione del Fatto del Giorno. Grazie a tutti.